Allenare la mente serve a vivere meglio e a prevenire molte patologie degenerative. Il cervello, proprio come il resto del nostro corpo, ha bisogno di un po' di ginnastica per restare in forma. Esistono ormai delle tecniche consolidate per questo tipo di allenamento, con esercizi cognitivi di vario tipo, che possono essere organizzati in cicli di lezioni anche solo di 10 ore. Queste lezioni migliorano sia la memoria, sia la capacità e la velocità nei ragionamenti. Questo si ripercuote positivamente nella vita di tutti i giorni, dal ricordarsi meglio i farmaci da assumere fino al cucinare. Insomma, a parità di età, chi si è allenato in questo modo è più indipendente rispetto ad anziani che non hanno seguito le 10 ore di training. Uno studio della prestigiosa John Hopkins University mostra che questi benefici restano anche nel lungo termine. Chi ha fatto queste 10 lezioni di allenamento ha prestazioni migliori degli altri anche a 10 anni di distanza. Lo studio scientifico ha coinvolto 2.800 partecipanti sani all'inizio dello studio di un'età media di 74 anni. Dopo diverse settimane di allenamento, i partecipanti sono stati esaminati per capacità mnemoniche di ragionamento e per velocità di elaborazione degli stimoli a più intervalli di tempo, facendo passare qualche anno. Circa il 60% di coloro che hanno seguito le 10 lezioni iniziali di training cognitivo ne hanno poi fatte altre di potenziamento che hanno migliorato ulteriormente le prestazioni iniziali. Dieci anni dopo, alla fine dello studio, tutti i gruppi hanno mostrato un declino cognitivo rispetto ai loro test di base iniziali sia di memoria, sia di ragionamento e di velocità di elaborazione, come ci si aspettava, visto che avevano 10 anni in più. Ma chi ha seguito l'allenamento di 10 anni prima è andato incontro a un declino minore nel ragionamento e nella velocità di elaborazione rispetto al gruppo di controllo.